La votazione è chiusa. La Camera approva. Siamo all'86. 86.50 Venitelli. Relatore. Pariere favorevole. Governo. Favorevole. Lo poniamo in votazione. La votazione è aperta. Parere favorevole di Commissione Governo. Locatelli. Figgerald. Vezzali. Taricco. Gregori. Amo Dio. La votazione è chiusa. La Camera approva. Pongo in votazione l'articolo 86. Votazione aperta. Piepoli. Piepoli. La Franco. La Franco. Grazie. Grazie. Grazie.